Musica Bella ragazzi sono Dario e sono tornato con un nuovo episodio di A Voi La Scelta dovrebbe essere il quarto ma dato che io non mi ricordo mai che cazzo di episodi sono quindi non prendete niente per vero di quello che vi sto dicendo perché parlo milanese non so comunque questo è il nuovo episodio di A Voi La Scelta quindi per questo vi dico andate a lasciare subito che mi piace la pagina facebook perché ovviamente quando io farò A Voi La Scelta scriverò un post sulla pagina facebook dove vi dirò scrivetemi la classe che vorrete per il prossimo episodio e voi me la scrivete ma dai ma era no no io quello non l'avevo visto scusatemi ho scazzato comunque per questo episodio mi è stata data questa pistoletta silenziata molto molto semplice e niente spero che il video vi piaccia mi sto dicendo cazzate perché mi sto concentrando comunque va bene tra qui non me ne sono andato sono qui oddio mamma mia fermi tutti e vabbè madonna vaffanculo comunque adesso io vi rompo il culo a tutti quanti perché lo sapete come funziona lo sapete che io vi rompo il culo infatti guardate qua che mira che bella che ho un altro che vuole sbucare un altro che vuole prendere botte su vieni vieni dai dieci oh dieci metto qua eh io sono tattico eh io sono sono molto tattico comunque dai basta di scherzio cerchiamo di finire almeno in positivo quanto siamo? siamo a 3-2 ci siamo in positivo ok mi metto qui e aspetto la fine della partita no no è vero dove cazzo siete? state tutti di qua dai che bebecca tutti le faccio una strage di cribio affanculo bene fail volevo rompere la cosa ma era tutto calcolato mamma mia che figlia che stava a fa qua cioè se io non l'ammazzavo io me ne andavo perché un po' devono ammazzare quello porca troia oh quella cosa bella c'è la sta pistoletta è tipo la 007 mi piace è figa è molto molto leggera non è pesante capito? quelle cose là solo che poi da lontano non capisci un cazzo quindi niente eh ma dove cazzo stai? dai ma non vale così pezzo di merda c'è nessuno? c'è nessuno qui? la doletta è nostra? bellissima certo che lì farà molte kill eh genietto del male ma che cazzo di mila c'ho? ma dai che cosa era? cioè è proprio bancato alla grande stanno tutti qua sotto e ora non c'è più nessuno ovviamente non c'è più nessuno solo non si vedono i nemici porca troia no mamma mia che mira al culo fermi fammi l'ho andata qua prima che piro le pizze tanto sta qua no 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 ti avevo visto Cristo perché sono così stupido? li vedo e non li uccido io sono magnanimo comunque comunque ciao cioè mori guarda che tanto mori se ti ribeccotate qua si hai capito che tanto non te ci ti mette all'angolo così dove cazzo eri? guarda che cazzo di arma c'hai ma fate schifo coglione oh 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 ciao stronzo non mi rega niente che sono morto sono contento di aver ti ammazzato a te pezzo di merda che non sei altro e che ti ribeccote qua mamma mia comunque mi piace la pistoletta raga puh figa figa cioè figa ne stiamo a fannere ah cicci no potevo fare l'ultima kill io comunque ragazzi questa questo non riesco a parlare sono strabico vabbè avete capito meglio che non parlo comunque passate per la pagina facebook per consigliarmi tutto quanto per rimanere in contatto con noi e ciao bella grazie a tutti